Due visite in pochi giorni da parte delle forze dell'ordine alla comune di Eboli. I carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato hanno fatto irruzione negli uffici comunali. Uno spiegamento consistente di uomini e mezzi delle forze di Stato che hanno suscitato clamore anche nei cittadini. Dalle prime indiscrezioni sembra che siano diversi filoni di indagini aperti dalla Procura della Repubblica insieme alle denunce raccolte dai PM. Gli inquirenti, proprio per far luce su questi esposti, avrebbero acquisito vari atti dagli uffici comunali di Eboli. I settori che sarebbero l'attenzione delle forze dell'ordine, quello del patrimonio con fascicoli aperti sui mancati sgommeri delle case popolari, sui parcheggi al Palasele, ma pare anche ad abusi edilizi. Le indagini sono in corso con gli inquirenti che al momento mantengono il massimo riservo sulle loro ispezioni al comune di Eboli.